Presentare con successo, utilizzando al meglio le abilità comunicative. Relativamente alla preparazione di una relazione, Tim Hindle ritiene che definire lo scopo della presentazione, conoscere preventivamente il tipo di pubblico, ricercare ed organizzare tempestivamente il materiale, studiare e creare lo spazio ambiente adatto, fissare chiaramente gli obiettivi di ogni singolo argomento esposto, scrivere e rileggere il testo, fare in anticipo le prove di funzionamento e di efficacia espositiva degli eventuali supporti audiovisivi e multimediali siano passi essenziali per essere apprezzato come relatore. Quanto alla preparazione personale, credere in se stessi, curare il portamento e l'aspetto esteriore, usare al meglio la voce, eliminando in anticipo la comprensibile tensione, sono tutti fattori facilitanti al successo come oratore congressuale. Per affrontare con la giusta calma e padronanza emotiva l'inevitabile stress oratorio, è molto utile allenarsi con le tecniche di autocontrollo emotivo più adatte alla propria personalità e più rapide come effetto. Autoipnosi, training autogeno, reiki, relax psicosomatico, neuro-emotional integration, sono tra gli strumenti più collaudati ed efficaci, soprattutto se appresi e praticati in anticipo rispetto all'evento che ci vedrà come protagonisti. Il giorno della conferenza, poi, bisognerà controllare i nervi e, soprattutto, parlare con sicurezza ed autorevolezza senza peraltro essere eccessivamente e costantemente seriosi. Anche un argomento estremamente serio, come sono in genere quelli di pertenenza congressuale sanitaria o scientifica, può essere infatti affrontato con la giusta dose di informalità linguistica, di humor e di autoironia. Quando si tratta di affrontare il pubblico, è comunque bene non prendere mai la situazione troppo alla leggera o senza adeguata preparazione. Lo stato d'animo migliore con cui presentare o presentarsi è certamente quello aperto ed informale, ma, al tempo stesso, concreto e rispettoso dell'uditorio e del tempo che vorrà dedicarci. Le domande sono, in genere, un ottimo indizio che la relazione sia stata seguita con attenzione e probabilmente anche apprezzata. È bene ringraziare sempre per la domanda posta, anche se provenga da una parte di pubblico che potremmo aver percepito, a torto o a ragione, come ostile. Le domande ci permettono, infatti, di conoscere gli effettivi interessi dei partecipanti e, se non ci faremo sopraffare delle stesse, ci aiuteranno a trovare la migliore rutta per concludere la nostra relazione in maniera più che soddisfacente, per noi e per l'uditorio. Quanto alla stage fright, la cosiddetta paura del palcoscenico, un ospetto sempre in agguato anche per gli attori e gli attori più esperti e smaliziati, le soluzioni più semplici ed efficaci consistono nel fare le prove davanti ad uno specchio e, se possibile, nel luogo designato per il congresso o la conferenza, assicurarsi di poter sempre vedere gli appunti e, soprattutto, sorridere ed utilizzare l'ancoraggio emozionale strutturato, ovviamente, in precedenza, proprio per affrontare, nel migliore dei modi, qualunque situazione di emergenza. Ulteriori raccomandazioni e consigli e spunti di riflessione su questo argomento sono pensare al corpo, al viso e alla voce come tre dei fattori del nostro comportamento esteriore che sono assolutamente da tenere sotto controllo, sia pure con discrezione e naturalezza. Gli elementi del nostro corpo da tenere sotto controllo sono ovviamente l'abbigliamento, la cinesica, cioè la mimica, la gestualità, la deglutizione, i manierismi, la postura, la prossemica, quindi l'avvicinarsi e l'allontanarsi rispetto all'uditorio, gli scarichi di tensione, i cosiddetti scrocchiamenti, sgranchiamenti e vari tic, tutti questi possono influire sulla nostra percezione visiva da parte dell'uditorio e favorire o sfavorire l'ascolto attento. Gli elementi del viso che dobbiamo tenere sotto controllo sono invece i cosiddetti ammiccamenti, i cosiddetti baci analogici, cioè il toccarsi delle labbra o l'inumidirsi le labbra o il muovere le labbra in un certo modo che rappresentano che almeno quell'uditore, quell'ascoltatore stia ascoltando con estremo interesse. La cinesica, come abbiamo detto, la postura e l'espressione del viso, il contatto visivo, la mimica, gli scarichi di tensione, lo sguardo etic. C'è poi la voce, dobbiamo fare attenzione alle cadute della voce, alle inflessioni dialettali, a meno che non decidiamo intenzionalmente di usarle, la monotonia, assolutamente da evitare, la paralinguistica, quindi l'emettere dei suoni, potrebbe essere sfregarsi le mani o battere sul tavolo, tamburellare, che se fatti deliberatamente e consapevolmente possono captare l'attenzione, altrimenti sarebbero da evitare. I cosiddetti raschiamenti della voce, il ritmo, la stridurità della voce, il tono, la velocità e il volume della voce stessa. E ora un paio di aforismi o comunque di battute, una in latino e una in italiano, come al solito, che potresti usare nell'ambito della tua presentazione, nel tuo parlare in pubblico. La prima, l'autore è anonimo, ti dice che anche Michelangelo ha fatto le sue cappelle. La seconda è in latino ed è decisamente più seriosa. Horas non numero, misi serenas. È una delle espressioni che veniva usata sotto le antiche meridiane per dire una cosa molto bella, che la meridiana non segna le ore se non quelle serene. Il doppio gioco sul fatto che per poter indicarti l'ora era necessario il sole, ma anche per ricordarti che devi ricordare, dobbiamo ricordare, soltanto le cose serene, le cose belle della nostra vita. Di nuovo te la ripeto in latino, Horas non numero, misi serenas.